Tra marzo e aprile avevamo sognato un momento così, cioè una giornata in cui potevamo occuparci di attività quasi ordinarie e provando a pensare addirittura ai dieci anni che abbiamo di fronte. Se accanto all'indispensabile pilastro nazionale che è rappresentato dal governo il Paese non avesse avuto un'articolazione territoriale e regionale come questa, io credo che sarebbe risultato più fragile e meno efficace il lavoro fatto nella gestione della pandemia. Anche in questo momento di difficoltà abbiamo dimostrato di avere il passo dell'emergenza, Presidente, chiediamo lo stesso passo a tutti. Ottime intenzioni, ottime idee sicuramente da sviluppare, che un po' possiamo dire mettono al centro finalmente la persona e l'ambiente. Siamo davanti a questa emergenza, questa emergenza straordinaria che nessuno di noi poteva prevedere ma che apre in termini di possibilità di rilancio degli investimenti nel nostro Paese una prospettiva unica. Bisogna guardare al futuro e come stiamo ripetendo e ci stiamo ripetendo noi non possiamo pensare di ripristinare la vecchia normalità. Dobbiamo assolutamente affermare una nuova normalità per il Paese. Noi ci sentiamo la responsabilità come rappresentanza di questo mondo di fare la nostra parte. C'è il rischio della tempesta perfetta. Da una parte i pesanti costi della fase 2 e le poche entrate, dall'altra una crisi di liquidità. Occorre correggere gli errori del passato, ridurre e azzerare le ritardie e le retratezze, allargare la base produttiva e adottare a dosi massicce le nuove tecnologie digitali. Noi vogliamo un'Italia più digitale. Siamo convinti che è la strada per renderla anche più equa, più inclusiva, perché è chiaro che il contrasto a un'economia sommersa che caratterizza il nostro sistema e è un obiettivo che dobbiamo condividere tutti. Sollecitiamo la più grande opera di semplificazione, efficientamento e sburocratizzazione della storia repubblicana. Noi le chiedemmo fiducia per i nostri artigiani, in particolare alcuni settori che auspicavano una rapida riapertura, gli estetisti, i parrucchieri. E lei ce l'ha data. Vi voglio fare un focus su un settore degli eventi, che è il settore dei matrimoni, figure professionali di tradizioni molto antiche, di 50 anni fa. Parlo dei fotografi, parlo dei fioristi, parlo delle aziende di abiti da sposa, parlo dei service, parlo dei musicisti, parlo delle aziende di moquette e soprattutto parlo di quello che è invece l'indotto. Diamo il colpo di pedale, come lo dico, per far ripartire i consumi, con una botta sull'iva che sia immediata, comprensibile anche a mia madre. Vai lì perché hai un 10% di sconto che te lo dà lo Stato per un mese su una grande massa di prodotti. Come diceva Keynes, è stato ricordato anche dal governatore Visco sabato scorso, il modo migliore in un sistema economico per intervenire nel breve periodo e dare risposte efficaci alla crisi è lo sguardo lungo e quindi allungare lo sguardo verso obiettivi di medio e lungo periodo. Noi oggi abbiamo la responsabilità di programmare il rilancio.